RETE 4 Noi ci vediamo un prossimo video in linea lo studio La parte del leone, personaggio positivo Questo invece è un leoncino di pezza Di quelli che si comprano agli autogrill Che fa il leone contro una giornalista Peraltro molto competente, molto capace E le dice anche ti daranno 2000 euro al mese Quindi offende tutte le persone che in Italia guadagnano meno di 2000 euro Cioè non hai neanche il senso di quello che dici Hai offeso dicendo guadagni massimo 2000 euro Hai offeso 25 milioni di italiani Che la mattina si alzano, con difficoltà tra l'altro alcuni Vanno al lavoro Non fanno tutte quelle stronzate che hai fatto tu Per il quale ti auguro di avere la pena giusta E non si permettono di far cose di quelle che fai tu Si accontentano spesso di quel che hanno Magari rivendicano di più Ma stanno nella legalità Li dovresti conoscere a uno a uno Perché forse Forse Dubito Ma forse Riuscirebbero a metterti in testa qualcosa di buono Intanto non ti azzardare più Dire queste cose su una giornalista Perché la prossima volta ci vediamo in tribunale